e che tipo di problemi ha presentato Julian Williams Vuole sapere che tipo di problemi ti ha dato poi Julian Williams su perché è un conto della strategia, poi sul ring che tipo di problemi ti ha dato? Era molto veloce col jab però stava entrando nel match Era molto veloce con il jab, ma si sentiva come si era arrivato alla combina Dio, benvenuto a tornare quando vuoi Benvenuto a tornare quando vuoi Benvenuto a tornare quando vuoi Qualsiasi Chiede se sei d'accordo con il fatto che l'arbitro ha fermato il match in quel momento Io dico il colpo c'è stato e l'ho sentito Però se magari mi lasciava il tempo o di andare per terra o di contarmi Io avrei reagito Vabbè mi lasciamo andare per terra e vediamo se mi rialza E' vero 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 Hai qualcosa da dire ai tifosi americani? Quali sono i tuoi piani per il futuro? I piani per il futuro è tornare, riposarmi un attimo e ricominciare tutto a capo E' vero 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 Roberto Grucci